Dopo la prestigiosa collaborazione con il chitarrista Andrea Braido, un nuovo successo per Vincenzo D'Angelo, pianista lecchese, che ha diretto da un punto di vista artistico e musicale la messa in scena del Musical Grease a Milano. Sostanzialmente sono stato chiamato come pianista e direttore musicale, che poi diciamo nella pratica è il direttore musicale e sostanzialmente poi è il direttore d'orchestra, per il Musical Grease della Compagnia dell'Arancia, che è stato in scena dal 9 di marzo fino al 30 di aprile al Teatro della Luna ad Assago, vicino al Forum. La collaborazione è iniziata appunto a metà febbraio, siamo andati a Senigallia a fare l'allestimento della preparazione di tutto lo spettacolo, siamo stati lì per due settimane con tutto il cast, quindi attori, cantanti, ballerini e anche chiaramente i musicisti. Abbiamo appunto fatto le prove per allestire tutta la parte musicale sotto la supervisione anche dell'arrangiatore, orchestratore, Riccardo Di Paola. Dopodiché abbiamo fatto due anteprime al Teatro di Senigallia e poi ci siamo trasferiti a Milano al Teatro della Luna e dal 9 di marzo al 30 di aprile abbiamo fatto 47 repliche. Direi che la risposta anche del pubblico è stata molto positiva, c'è sempre stata una grande affluenza di pubblico, anche i complimenti o comunque il pubblico è stato molto entusiasta, ha risposto molto bene a tutte le repliche e quindi direi che siamo molto soddisfatti, anche io in particolare in prima persona sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Finalmente adesso con Grease sono riuscito ad iniziare questa collaborazione nel campo appunto del musical con questa compagnia, mi sono trovato anche molto bene quindi penso che ci saranno appunto delle altre collaborazioni con loro con forse anche lo stesso musical o altri musical sempre della stessa compagnia.